Insomma, il Presidente avete sentito, ha preso a cuore questa storia, ora io non ho votato Schifani, ve lo dico con chiarezza perché io dico sempre le cose come stanno, però alcune cose mi stanno piacendo, non lo consideravo molto attivo, sembravo un po' imbalzamato a dire la verità, però alcune cose già mi stanno convincendo che ci sono dei segnali come per esempio la questione delle province, come per esempio il fatto di sentire le forze sindacali, come per esempio il fatto di affrontare il problema quello della Lucoil, quello di Gela, Termini Merese, insomma ci sono tantissime situazioni che dovremmo affrontare insieme e il Presidente lo sta facendo, vediamo se le bollette, la Lucoil, ne ho parlato ieri, erano 4 mesi che sapevamo che il 5 di dicembre non pigliamo più il petrolio e che abbiamo aspettato a trovare soluzioni, tutti a dire forze vediamo Draghi che è uno dei più colpevoli di questa storia e anche Mattarella, sono stati 3 mesi a aspettare le elezioni, ma state scherzando con tutti i problemi che abbiamo avuto, con tutti i problemi che abbiamo avuto, va bene quindi schifare mi sembra dare buoni segnali, domani si insedia l'Assemblea regionale, cos'è la diciassettesia, non mi ricordo, legislatura, si insedia, quindi tutti i deputati, ci sarà anche Nello Di Pasquale e per Nello Di Pasquale voi sapete ci sono dei progetti, viene considerato uno molto in vista del PD, potrebbe aspirare a fare il segretario, addirittura si parla di segretario regionale del PD, insomma è una strada che sta facendo, gli altri nostri deputati per Giorgio Assenza probabilmente ci sarà un incarico importante, la giunta verrà nominata nei prossimi giorni, vediamo se ci saranno ragusani con cariche importanti, però bisogna anche capire che la burocrazia è un'arma a doppio taglio, come ho detto più volte come il comune di Ragusa, come altri comuni, c'è sempre questa storia di un nevire a un nevire, cioè per delle stupidaggine come quelle dell'Iblea si impuntano e stanno lì dieci giorni, per altre cose vanno avanti come i treni, come per esempio la famosa questione dell'Ati, Atibleo che sarebbe appunto una società fatta dai vari comuni che dovrebbe gestire l'acqua in tutta la provincia, sapete che acqua e spazzatura sono business incredibili, quindi gestire questo vuol dire tantissimi soldi, tantissimi soldi per appalti, per amministratori, per impiegati, ma è giusto o non è giusto? Abbiamo una intervista con il consigliere comunale di Ispiga, vediamo.